Voi sapete che una delle principali vele si chiama Genova apposta, perché è stata inventata qui da noi. Genova ha la tradizione, dallo Yacht Club italiano, che è stato il primo club velico di tutto il Mediterraneo, e così via. Insomma, abbiamo una tradizione incredibile e adesso abbiamo un'occasione fantastica per far vedere che Genova è sempre la capitale della vela. Di questo ne siamo assolutamente felici e supportiamo al 300%. Pensate un attimo, 400 atleti che vengono danno visibilità a Genova. Cioè, verranno con le loro famiglie, faranno vedere la città, faranno vedere non soltanto quanto è bello il mare, quanto è bello il vento, quanto è bello l'ambiente, ma anche quanto è bello il centro storico, quanto sono belli i musei, quanto è bello il callo felice e così via. Quindi è esattamente il tipo di promozione di cui abbiamo bisogno e che ci vuole per far ricrescere Genova. È la prima volta, è vero che i campionari italiani e classi olimpiche troveranno luogo qui a Genova. Quindi per noi è stato un esercizio quasi dovuto, necessario. Genova è sempre stata importante nel mondo dello yachting. Per noi è importantissimo riportarla sui fasti del passato. Non voglio dire la superba, ma comunque nel cuore rimane sempre il concetto della superba. È un onore per la nostra città, per i tanti appassionati di vela, riuscire a ospitare un evento così importante nella nostra città. È insomma un motivo di orgoglio e devo dire che la Federazione Italiana Vela sta facendo un grandissimo lavoro. Insieme a loro e ai nostri circoli velici riusciremo a ospitare questo grandissimo evento il 21 e 25 marzo di quest'anno, con oltre 220 imbarcazioni provenienti da tutta Italia, ma anche dall'estero.